La donna è più debole dell'uomo, o almeno la si crede tale e la si sfrutta di più. Non vedete? Anche quando fa lo stesso lavoro dell'uomo, la si paga sempre di meno. Le donne, dunque, hanno bisogno, più degli uomini, di formare le loro leghe, di unirsi, di andare d'accordo fra di loro. Perché l'unione è la forza di chi è debole e può farsi forte solamente mettendosi insieme agli altri. Ora che tanti uomini sono via e manca alle famiglie dei lavoratori il loro appoggio, più che mai le donne sono costrette a lavorare e a farsi sfruttare e devono quindi sentire il bisogno di stare unite. Anche per protestare contro tutte le ingiustizie e le crudeltà che oggi tutte lamentano e per prepararsi ad impedire che questo male si ripeta altre volte. Innanzitutto ringrazio il Centro Galmozzi che stamattina ha ricordato, come ormai fa da anni, Anna Adelmi e l'ha ricordato in un modo che non solo fa memoria ma riesce anche a generare impegno nei ragazzi. Di conseguenza grazie. Grazie anche alle Sor Optimist che poi cederò la parola alla dottoressa Rotta Gentile. Hanno veramente spinto affinché questo vicolo molto importante per il quartiere venisse intitolato ad Anna Adelmi. Procureremo anche una targa nella quale verrà descritta anche tutta quella che è stata l'attività di questa breve ma intensissima vita. Questo vicolo è fondamentale non solo poiché è di passaggio ma anche perché come sapete c'è l'entrata ad una scuola e questo appunto affinché si possa mantenere viva la figura di Anna Adelmi significativa per la città, per la nazione e ci auguriamo anche per le nuove generazioni. Anna Adelmi era un'esposta che con le sue forze da una condizione che all'inizio secolo era di assoluta inesistenza per la società. Essere una figlia di NN era non essere per la nostra società ma con le sue forze ha studiato, si è impegnata e ha voluto e ha voluto dedicare la sua vita sia ai bambini scegliendo la strada dell'insegnante. Lei ci dice nei suoi scritti che la cosa più importante è imparare perché chi impara, impara tante parole, ce l'hanno ricordato oggi i ragazzi con gli splendidi lavori che hanno fatto all'interno del premio Dalmozzi, chi sa e sa tante parole, con le parole si difende ma con le parole non uccide. E quindi questo pensiero lo ha portato avanti nella sua vita, nel suo lavoro, in tutti gli articoli che ha scritto come segretaria della Camera del Lavoro e come responsabile di Libera Parola e ci ha lasciato grandi insegnamenti di pace, di forza, di volontà e di determinazione nei suoi obiettivi. Ed è quindi con gioia che abbiamo sentito l'appoggio del Comune nel volere intitolare la strada, questa nostra concittadina che così tanto ha fatto, così tanto ci ha insegnato o così tanto ancora oggi ci insegna col suo esempio, che speriamo possa essere esempio per tutti e anche per le future generazioni che di qua potranno passare. Grazie a tutti!